Buongiorno ragazzi e ragazze, oggi è domenica di Pasqua, quindi niente lezioni, almeno per il momento, quindi prima di tutto colgo l'occasione per fare i miei migliori auguri, sia che voi siate credenti, sia che come me non lo siate. La Pasqua comunque rappresenta per tutti un passaggio, proprio anche etimologicamente, e speriamo che sia di buon auspicio un passaggio a qualche apertura, qualche spiraglio di fronte alla situazione che stiamo vivendo in queste settimane. In realtà questo video lo faccio perché ieri sera, durante il mio lungo periodo di insonnia che capita quasi ogni notte, ho scoperto che ieri è mancato un matematico molto importante, John Horton Conway. Voi forse siete troppo giovani per conoscerlo, qualcuno di voi ne ha sentito parlare in classe da me perché avevo fatto, credo due anni fa, una piccola lezione su un aspetto della matematica di Conway che mi aveva colpito particolarmente ed è mancato quindi ieri sera questa figura. È chiaro che in un momento, come dire, costellato da decessi e morti a livello mondiale il simbolo forse conta poco, ok? Però mi piaceva ricordarlo brevemente. Sto anche pensando di strutturare una lezione, una breve lezione trasversale per la terza, la quarta e la quinta, quindi per tutte e tre le mie classi, su alcuni aspetti della matematica di John Conway. E così ricordare un pochettino questa figura di matematico. È stato anche un grande divulgatore, insegnante, dedicato molto del suo tempo all'insegnamento della matematica. molto lo ricordano e io personalmente ho un ricordo molto bello quando da ragazzo ho scoperto quello che si chiama il gioco life, letteralmente della vita. È stato uno probabilmente dei primi a analizzare quelli che oggi vengono chiamati automi cellulari, quindi sono dei giochi, chiamiamoli così, con delle regole fisse che permettono a un sistema di evolvere. E il gioco life è stato, come dire, un'epifania. Mi ricordo ancora quando, leggendo le scienze, se non ricordo male, scoprì questo gioco e all'epoca non c'erano ancora computer. L'ho avuto il mio primo computer di lì a poco, ma quando avessi l'articolo avevo un pezzo di carta quadrettata, una matita, e mi misi subito a investigare l'universo incredibile di questi automi cellulari e mi fece una grande impressione. Ricordo che mi fece una grande impressione. Più avanti ho scoperto altre parti della matematica sempre considerata divertente, ricreativa. Conway era un personaggio anche carismatico e famosa frase che qualcuno me l'ha ricordato anche stamattina su Twitter. La matematica non è difficile, i gatti sono difficili, diceva lui. La vita, la struttura della materia, queste cose sono difficili. La matematica con un foglio e una penna può essere esplorata. E quindi altre parti della matematica. Lui si è occupato moltissimo di giochi, ma anche di teoria dei nodi, teoria delle strecce. Ha trovato una notazione molto interessante per rappresentare appunto trecce e nodi. Si è occupato di gruppi, si è occupato di geometria discreta, di cui fa parte appunto anche tutta la sua ricerca sugli atomi cellulari. Si è occupato di teoria dei giochi, ha costruito insieme ad altri due matematici la teoria dei giochi partigiani, che è un aspetto molto interessante nella teoria dei giochi. Si è occupato di tantissime cose, come dicevo, di divulgazione, di insegnamento e ha scoperto, lui dice proprio ho scoperto, non ho inventato, lui era un platonista da questo punto di vista, ha scoperto i numeri cosiddetti numeri surreali, di cui appunto vi ho parlato in classe un paio di anni fa. I numeri surreali non gli ha dato lui questo nome, il nome è dovuto a Knut, un altro grande matematico, anzi adesso vi faccio poi vedere, e lui ha scoperto questi numeri, cioè l'insieme più vasto possibile di numeri, ancora più dei numeri reali o dei numeri trasfiniti. Un insieme molto bello e che potrebbe essere, come dicevo, probabilmente argomento di una piccola lezione commemorativa della vita di John Conway. L'idea di questo video era anche per fare così, per dare qualche suggerimento di lettura, in particolare due. C'è un bellissimo libro, io purtroppo adesso non ce l'ho, perché l'ho prestato due anni fa e non mi è tornato indietro. Uno dei suoi libri più famosi, on numbers and games, quindi sui numeri e la matematica. Lui ha avuto sempre questa specie di, come dire, filo conduttore, lo studio dei giochi per trovare matematica. I numeri surreali, lui racconta, li ha scoperti quando ha iniziato a studiare, analizzare le regole del gioco Go. Non so se lo conoscete, il Go è un gioco cinese, molto antico, credo più antico degli scacchi, anzi sicuramente più antico degli scacchi e per molti aspetti molto molto più complesso, anche se apparentemente ci sono solo due tipologie di pedine, le mosse tra virgolette non sono così complicate, ma lo sviluppo combinatorico di questo gioco sulla scacchiera è molto complicato. Lui studiando il Go appunto pervenne alla scoperta di questo mare infinito di numeri, i numeri surreali. Quindi ho Numbers and Games, il suo libro forse più famoso. Io ne ho però, per fortuna questo non l'ho prestato, un bel libro che vi consiglio della Hapli, è tradotto in italiano, per quelli di voi che vogliono leggere in italiano, insieme a uno dei suoi più importanti collaboratori, Richard Guy, cui, non so come si pronuncia, il libro dei numeri. È un libro molto molto bello, una rassegna su tutti i possibili tipi di numeri che sono stati in qualche modo scoperti nel corso dei millenni ed è veramente veramente molto interessante. E poi il secondo suggerimento è questo libro di Donald Knuth. Donald Knuth lo conoscerete, beh, voi forse no, siete giovani, ma a volte ne ho parlato anche di lui in classe, perché è uno degli, anzi è il creatore del sistema TEC, che è il sistema con cui molti di noi scrivono testi conforme ad equazioni, testi di matematica. TEC e successivamente Leslie Hanport ha costruito una serie di macro, per cui la TEC. Però Donald Knuth in realtà è un grande matematico, uno dei padri della, anche qui, della, possiamo dire, dell'informatica moderna, e ha scritto, mentre era in vacanza in Svezia, lui racconta che aveva appena parlato appunto con Conway e Conway gli aveva raccontato durante una cena in un ristorante, scribacchiando su un tovagliolo di carta questa sua scoperta, questi numeri particolari, che ancora non si chiamavano numeri surreali. E Knuth prende questo tovagliolo di carta, lo conserva, poi lo perde, però questa idea di questi numeri particolari le rimane in testa e durante un anno sabbatico passato in Svezia, gli viene l'ispirazione, deve scrivere un libro su questi numeri, deve essere un libro introduttivo alle idee della matematica, cioè lui prende l'occasione di queste idee di Conway per scrivere un libro per mostrare che cosa significa scoprire un'idea matematica, sviluppare un'idea matematica, sbagliare lavorando su un'idea matematica e trovare qualche cosa di interessante. Quindi affitta una camera in un albergo, manda via la moglie e per sei giorni scrive mattino, pomeriggio, sera e notte questo libretto, appunto dal titolo Numeri Surreali, sotto forma di un dialogo tra due ragazzi, un ragazzo e una ragazza, infatti il sottotitolo è Come due ex studenti scoprirono la matematica pura e trovarono la vera felicità. Allora, Donna Knuth, Numeri Surreali, della Franco Angeli, è un librettino che si legge, oddio, è molto denso, è piccolino, ma è molto denso, ed è un tributo all'opera di Conway. Knuth dirà, in quei sei giorni ho fatto la cosa migliore di tutta la mia vita e probabilmente sono stati sei giorni più belli di tutta la mia vita, ed è appunto un contributo alle idee di John Horton Conway. Quindi, se avete voglia, tempo, questo potrebbe essere il momento per dedicarsi ad un'attività di questo genere. Studiate un pochettino la vita di questo matematico e soprattutto le sue idee. Se riuscirò, in realtà stavo preparando, come avevo accennato, un miniciclo di tre, forse quattro lezioni di astrofisica per i ragazzi e le ragazze di quinta e vorrei portare a termine quello, forse prima. Però dopo Pasqua inizierò a pensare anche a una breve lezione commemorativa della figura di Conway. Per ora vi saluto e spero che stiate bene. C'è il sole e presto tornerà il mattino, dopo questa lunga nottata. Vi saluto e ci sentiamo presto.